A di armi corte, commedia in un atto asterisco 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 Roberto Bracco teatro volume ottavo il piccolo santo con nota dell'autore a di armi corte Remo Sandrone editore libraio della RIA il casa Milano Palermo Napoli proprietà letteraria i diritti di riproduzione e di traduzione sono riservati per tutti i paesi, non escluso il regno di Svezia e quello di Norvegia. È assolutamente proibito di rappresentare questi lavori senza il consenso scritto dell'autore. Articolo 14 del testo unico 17 settembre 1882 Il piccolo santo Copyright 1910 by Roberto Bracco in the United States of America Ad armi corte Copyright 1912 by Roberto Bracco in the United States of America Off Tip Sandron 145 i 240.212 A di armi corte Commedia in un atto Rappresentata per la prima volta al Teatro Manzoni di Milano dalla Compagnia di Virgilio Talli, nel mese di novembre, 1910 Personaggi Laurina Corbari La signora Valeria Arletti Il dottore Arletti, suo marito Riccardo Negri Un domestico Atto unico Salotto in casa del dottore Arletti Due porte laterali In fondo, la porta comune dietro due pesanti portiere Scena i Il domestico, un giovine piuttosto tarchiato, dal volto stupidamente austero, dall'incesso solenne introduce Laurina Corbari Già che insiste tanto, favorisca in questo salotto e aspetti Ma le ripeto che il dottore non c'è Laurina, snella, piccoletta, graziosa, elegante, di un'eleganza birichina e capricciosa entra con un'aria un po' insolente, la testolina eretta, agitando l'ombrellino, avanzandosi senza titubare Il domestico, urtato da quella non curanza, e poi, è ammalata, lei Laurina molto Alla chetichella, con una mano guantata, stendendo il mignolo e l'indice, fa le corna contro la iettatura Il domestico e dunque, questa non è l'ora adatta Per le consultazioni, egli non riceve che dalle 9 alle 11 antimeridiane Seri in casa prima che lei si sia stancata ad aspettare, sto fresco Trovandola qui, si irriterà e le batoste toccheranno a me Laurina e via, giovanotto Al dottore non dispiacerà troppo di trovare qui una bella donnina Il domestico che che Il dottore non è un uomo Laurina, interrompendolo davvero Il domestico non è un uomo come gli altri Analizzandola un po' con lo sguardo di sbieco, a certi dettagli non ci bada È uno scienziato Laurina e voi Il domestico cosa? Laurina siete uno scienziato anche voi Il domestico, rispondendo in buona fede, io, no Laurina meno male Se non siete uno scienziato, avete senza dubbio l'abitudine di badarci, a certi dettagli, e quindi per una bella donnina potrete compiacervi di sopportare una rimenata dal vostro padrone Toccandogli la pancia, come per infilargliela, con la punta dell'ombrellino, no Il domestico, tra l'imbarazzo e il disdegno In verità, faccio il domestico da più di un anno in casa del dottor Arletti e, fra tante signore venute a consultarlo, nessuna mi ha mai parlato così Laurina, con un gesto abbreviativo, già, ma io non sono una signora Il domestico, spallancando gli occhi, non è una signora Laurina di che vi meravigliate, caro domestico Non è punto necessario d'essere una signora per fare una visita al dottor Arletti Basta dargli venti lire Io gliele darò Cogliendo un'idea che le passa, all'improvviso, per il cervello, del resto, per assicurarmi un'accoglienza cordialissima, mi farò presentare a lui da sua moglie Il domestico, spallancando gli occhi più di prima, da sua moglie Laurina, nervosa e rabbiosetta, sicuro Siamo colleghe Il domestico, inalberandosi Ma che colleghe Ma che colleghe Se lei ha voglia di scherzare, non ne ho voglia io Laurina per mostrarvi che non scherzo niente affatto, caro domestico burbero e permaloso, vi prego di annunziarmi alla signora Arletti Il mio nome, Laurina Corbari Il domestico, guardandola atonito, e lei spera che Laurina io vi garantisco che la signora Arletti, udendo il mio nome, si precipiterà Facendo con un piede un gesto di comando come si fa con la mano, andate Il domestico, la guarda ancora con un piglio canzonatorio Poi, si stringe nelle spalle, la non si erò Esce a destra Laurina, si ferma nel mezzo della stanza, battendo a terra reiteratamente la punta di un piedino, guardando il soffitto, digregnando i denti tra le piccole labbra tinte di rosso Il domestico, dopo un istante, ritorna con una fisonomia che esprime mortificazione e intontimento La signora viene subito Laurina avete visto? Il domestico, ha un gesto come per dire, dopo tutto, io me ne infischio, e, sa via, lemme lemme, verso la porta comune Laurina, facendogli una smorfia alle spalle, scioccone Il domestico, si volta, risentito Laurina non vi ho chiamato Potete ritirarvi Il domestico, pazientemente, esce Scena seconda Valeria, dalla destra, ansiosa, tremebonda, ma cercando di sembrare disinvolta, lei ha chiesto di me Laurina, squadrandola da capo a piedi, se è la signora Valeria Arletti, ho chiesto precisamente di lei Valeria sono appunto la signora Valeria Arletti Ma io, con chi ho l'onore di parlare? Laurina lo ignora Valeria, con puerile dissimulazione, lo ignoro Laurina quel barilotto del suo domestico non le ha annunziato Laurina Corbari Valeria si, ma, è un nome che mi riesce nuovo Laurina nuovo 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 Valeria nuovo 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 Laurina si, che, lei non sa nemmeno vagamente chi sono Valeria come vuole che lo sappia Laurina allora glielo dirò io stessa Valeria, perdendosi d'animo, ma ostentando, viceversa, una vivace presenza di spirito Ne avrò molto piacere Laurina grazie Un breve silenzio Mi fai il favore di invitarmi a sedere Valeria prego, prego S'accomodi pure Laurina, sedendo e perché non siede anche lei Tanto, glielo avverto, non me ne vado a essere ubito Dobbiamo un po' discorrere Segba Valeria, impallidendo ma si Volentieri Siede, a una certa distanza, di fronte a Laurina Ancora un silenzio Laurina dunque, io sono, anzitutto, una cocotte Valeria o Laurina si scandalizza Valeria no Trovo strano che lei si dia, da esse è, della cocotte Laurina a scanso d'equivoci e di malintesi Io non intendo mica d'offendermi chiamandomi così Non ci mancherebbe altro Io mi voglio tanto bene Come mi potrebbe saltare in mente di perdermi di rispetto E poi, lei, credo, fa confusione Io non ho detto d'essere una cocotte disonesta E non l'ho detto, perché non lo penso So di essere una cocotte onestissima, io Non ho mai ingannato, non ho mai mentito, non ho mai fatto vedere lucciole per lanterne, non ho mai rovinato nessuno, non ho mai tolto un marito a una moglie, non ho mai tolto a un'amica o a una nemica nemmeno un gatto, nemmeno un pappagallo Oh, dica francamente, non le par giusto che io mi vanti del mio stato di servizio Valeria ma, scusi, la ragione della sua visita qual è? Non si sarà scomodata a venire da me solamente per darmi notizie della sua onestà Laurina ha mostrato tanto desiderio di sapere chi sono Valeria adesso, l'ho saputo Passiamo oltre Laurina no, no Abbia pazienza, non l'ha saputo che in parte C'è dell'altro Non desidera saperlo Valeria l'ascolto Purché non si dilunghi troppo Laurina mi sbrigo in due parole Ma non se le lasci sfuggire dall'orecchio Io sono, l'amante di Riccardo Negri Le giunge, forse, nuovo 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 il nome di Riccardo Negri come le è giunto il mio Valeria, rodendosi no Riccardo Negri è un buon amico di mio marito Una persona un po' frivola, ma affettuosa, gentile, garbatissima Tutto sommato, un uomo eccellente Laurina lo trova eccellente Valeria certo Non ho che a congratularmi con lei Laurina ed io con lei Perché anche lei è la sua amante Valeria, con un soprassalto Ma che cosa si permette di dire? Laurina la verità Siamo tutte e due l'amante di quell'uomo eccellente La sola differenza è questa Io da tre anni Lei da una settimana Valeria, scattando in piedi con uno sforzo di fierezza Io non voglio tollerare un minuto di più la sua audacia Laurina, restando seduta Mi mette alla porta Padronissima Badi, però, che se mi mette alla porta Io ritornerò per la finestra E sarà un brutto ritorno Parlerò con suo marito invece che con lei Era la mia prima idea quella di parlare con suo marito Poi mi sono detto Se il dottore me l'ammazza Io avrò l'incomodo del rimorso Meglio cercare di sbarazzarmene con le buone Meglio persuaderla, direttamente, che Non deve rompermi le tasche Farla ammazzare, perché Cent'anni di vita in ottima salute e anche cento amori in barba al dottore Arletti Purché non dia fastidio a me Questo, veda, mi son detto Ma se lei preferisce il patatrack con l'analogo ammazzamento Pazienza Io mi lascio mettere esse ubito alla porta Dolentissima soltanto di pensare Levandosi con un sospiro compassionevole Che forse non ci vedremo mai più Valeria Profondamente costernata e con la voce convulsa Io non sono Io non sono l'amante di Riccardo Negri Ma seppure lo fossi Con quale diritto verrebbe lei a lamentarsene e a impedirmelo Lei ha confessato di appartenere a una categoria di donne che non possono pretendere di accaparrare un uomo per tutta la vita ed imporgli una catena come una moglie Laurina, tornando a sedere con pacatezza, risedva anche lei Risedva Ha sfoderato un bel argomento Bisogna per forza che sfoderi un po' io gli argomenti miei Si sedva senza preoccupazioni Non le dirò delle insolenze Neanche se la sua faccina, così carina, ma così irritante, me le chiederà Valeria, non osa ribellarsi e si rassegna a risedere, ingoiando la bile Laurina Io appartengo a quella categoria di donne, che, avendone fatte di tutti i colori, non possono pretendere, eccetera, 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 eccetera Quindi, lei mi domanda, con quale diritto, eccetera, eccetera, eccetera Risposta Senza nessun diritto E Cosa ha da osservare Senza nessun diritto Ma Riccardo Negri mi piace da tre anni, gli voglio bene da due anni e mezzo, gli sono fedele da due anni e tre mesi Oltre di che, Riccardo Negri è ricco Conclusione Non mi conviene di perderlo, e sono qui, senza nessun diritto, per farle sapere che non me lo lascerò prendere da lei D'altronde, se noi altre non cominciamo a cavar fuori le armi corte, siamo spacciate Le signore ci fanno, ora amai, una concorrenza spietata Si intende, esse contano non pochi vantaggi su noi Soddisfano, per esempio, più di noi l'amor proprio degli uomini che è, in sostanza, il solo amore di cui essi siano suscettibili, e hanno poi il monopolio di tutti quei pregi che gli uomini scoprono solamente nella donna degli altri L'unica debolezza delle signore è la paura terribile dello scandalo e della tragedia Ebbene, visto che il suo contegno, cara signora, non mi fa sperare un accomodamento amichevole Io profitto appunto della sua tremarella e ricorro alle minacce Valeria un ricatto Laurina e sì Un bel ricattino da brigante di strada maestra, o Riccardo, o la vita Valeria, affaticandosi in un'energia effimera, ma lei si inganna se crede che io tremi Delle sue minacce non mi curo No No Non me ne curo La sua denunzia troverai in mio marito Laurina un imbecille Valeria, un uomo che mi è devoto e che ripone in me una fiducia incrollabile Levandosi, di nuovo, con un ultimo tentativo di fierezza, lei, si regoli come vuole Io non ho più nulla da dirle Le passa dall'altro lato dandole le spalle Laurina, senza smuoversi, no, sa, non sono ancora disposta ad andarmene E senta a me, non abbia fretta di mandarmi via In tono affettuoso, glielo consiglio nel suo interesse Prende la sedia dove era seduta Valeria e gliela avvicina, col fare d'una padrona di casa Risedva Risedva Ma, caspiterina, non capisce che non sono tanto grula da presumere che una semplice denunzia mia farebbe crollare la fiducia che suo marito ripone in lei Non le balena il dubbio che la mia denunzia possa essere accompagnata, da qualche documento, dovuto alla sua imprudenza di novizia Valeria, si piega nelle ginocchia e risiede avvilita Laurina è, cara signora, questi uomini abituati con noi altre sono sciatti, smemorati, leggeri, e non danno alcuna importanza a una lettera d'amore Mettendosele, seduta, proprio accanto, confidenzialmente, sono capacissimi di dimenticarla in fondo a una saccoccia come un programmino di caffè concerto o come un fazzoletto Valeria, cerca di scostarsi un po' Laurina, accostandosele sempre più a ogni parola, ed ecco che quel pezzo di carta, che dovrebbe essere per loro una reliquia, può capitare nelle mani di chiunque abbia l'occasione di vederli dormire saporitamente e la consuetudine di perquisire i loro abiti mentre essi dormono Povera signora Valeria Quanta ingenuità in quella firma gettata come un sospiro in coda a una lettera, così compromettente Valeria, dibattendosi fra la stinza, il timore crescente e la pertinace speranza di poter fare a meno di arrendersi, non è vero Non è vero Il signor Negri non poteva possedere nessuna lettera mia Egli stesso ha certamente protestato Laurina ma no Non ha protestato, quell'angelo, perché non ha avuto nessun sentore della mia perquisizione Le pare che avrei commessa la bestialità di rivelargli il mio giochetto Stamane ci siamo salutati come due sposini Io graziosissima con lui, lui graziosissimo con me nella sua solita serenità angelica E scommetterei che, mentre io e lei siamo sul punto di afferrarci per i capelli Quell'angelo sta a fare ungere i capelli suoi dal fido quafer per trovarsi qui tutto lucido e pronto Alle ore 15 Mutando tono, Dio la benedica Lei dà degli appuntamenti amorosi sotto il tetto coniugale E lì dà, per giunta, iniscritto, con tanto di firma Ha un bel coraggio, parola d'onore Valeria menzogne Infamie Calunnie Questa lettera non esiste Laurina avrò il piacere di ricordargliela dalla prima all'ultima parola L'ho imparata a mente, sa, ed è stato un bello sforzo di memoria, perché è abbondante l'epistola Ripetendo la lettera e assaporandone alcune frasi Riccardo mio, da una settimana io tradisco mio marito Comprendi tu di quale peccato io mi macchio per te? A lei Smacchieremo, smacchieremo Poi, continua Considera, o Riccardo, che i due pensieri culminanti di quest'uomo impareggiabile, che è una gloria della chirurgia italiana, sono il suo ospedale e sua moglie A lei Evviva l'allegria Poi, continua Eppure io ti perdonerò Continua Ti aspetto a casa alle 15 precise di domani A Valeria Sarebbe alle 15 di oggi, cioè, guarda il suo orologetto, fra mezz'ora Continua Egli non ci sarà Egli non ci sarà, perché alle 15 deve tagliare una gamba Ma, per qualunque evento, farai chiedere dal portinaio se ricevo Caso mai ti si risponda che non ricevo, ciò significherà che non saremmo liberi Sii sempre guardingo, Riccardo mio, perché lui, per un semplice sospetto, ammazzerebbe la tua Valeria Dunque, sull'ammazzamento ci posso contare Breve pausa Vuole promettermi che da oggi innanzi lei non avrà più niente di comune con Riccardo Negri Valeria, scattando in piedi con un impeto inconsiderato, no 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 Scena terzo Il dottor Arletti Entrando dal fondo, frettolosamente, col cappello in testa e le braccia protese verso la moglie Un abbraccio e un bacio a tutta velocità Vedendo l'orina, si toglie il cappello e si ferma, seccato Oh, perdoni L'orina, immediatamente alzandosi, io sono Valeria la, 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 la baronessa Corbari Laurina appunto La baronessa Corbari Il dottor Arletti, a Valeria, una visita per te Valeria, animandosi per una imperiosa necessità, no La baronessa Corbari era venuta, veramente, per consultarti Il dottor Arletti, parlando con disordine e con fluidissima rapidità, me ne duole, baronessa Me ne duole Me ne duole Il mio domestico già, quello lì è un ebete Avrebbe dovuto dirle che io non ammetto d'essere consultato nel mio domicilio in ore che non siano quelle da me stabilite Se sono qui in questo momento, non ci sono mica per essere consultato Ci sono perché, sempre che l'ospedale mi concede un attimo di libertà, io corro a vedere mia moglie Due pensieri occupano supremamente la mia vita, mia moglie e il mio ospedale Ma alla buona Valeria, purtroppo, non posso dare che qualche ritaglio di tempo Adesso, per esempio, impossibile trattenermi a lungo Impossibile Impossibile Alle 15 Guarda il suo orologio Laurina, contemporaneamente, guarda il suo Valeria, contemporaneamente, guarda il suo Il dottor Arletti, continuando, alle 15, devo tagliare Laurina una gamba Il dottor Arletti come lo sa Valeria gliel'ho detto io, proprio per convincerla che era inutile sperare di consultarti oggi Il dottor Arletti inutile, baronessa Inutile 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 Torni domani, nelle ore antimeridiane, e per oggi si rassegni Tanto, non ha l'aria ad essere affetta da una grave malattia Non mi pare che la sua vita sia in pericolo Laurina la mia no, ma Vorrebbe indicare Valeria Valeria è molto preoccupata, molto apprensiva la baronessa Il dottor Arletti ho inteso, neuropatica La malattia di tutte le belle donne Fino a domani, non ne morra, spero Licenziandola, a rivederla, a rivederla Non comprendo che cosa possa fare per una neuropatica un chirurgo, ma non si sa mai Se ci sarà da tagliare Taglieremo I miei rispetti, baronessa I miei rispetti Laurina mi permetta, almeno, di darle Sobguardando Valeria e sottolineando le parole La diagnosi scritta dal mio medico curante Valeria, ha una scossa Laurina potrà leggerla Potrà studiarsela E poi, domani Il dottor Arletti o Dio, non ci sarà nulla di astruso Ma se lei ci tiene, me la dia Laurina sulla mia parola di baronessa La faccenda è complicata, dottore mio È complicatissima Vedrà che per capire di che si tratta Dovrà raccogliersi Dovrà concentrarsi Il dottor Arletti si sbrighi Però, baronessa Per carità, si sbrighi Laurina, cerca nella sua borsetta e ne cava una busta chiusa Consegnandola al dottore, dà un'occhiata significativa a Valeria Ecco qua Valeria, allibisce, barcolla e indietreggia di qualche passo per non farsi scorgere da suo marito Il dottor Arletti, intascando la busta, sta bene Guarderò un po' Laurina a domani, dunque Il dottor Arletti a domani Laurina, accostandosi a Valeria, a lei, signora, tutti i miei ringraziamenti È stata così gentile con me Mi ha tenuto compagnia con tanta bontà Mi ha presentata a suo marito così graziosamente Le sono molto grata Vorrei darle un bacio Posso Il dottor Arletti, si agita e sbuffa Valeria, livida ma certo Laurina, le bacia ambo le guance e poi le prende il mento come a una bimba Che mosino Allontanandosi, le getta ancora un bacio con le dita Ora sono contenta E, inchinandosi, di nuovo, dottore Il dottor Arletti, alzando la voce nervosamente, di nuovo baronessa Laurina, esce dal fondo Scena quarto Il dottor Arletti in conclusione Questa baronessa è una seccatrice Mi ha rubati i pochi minuti che avevo potuto destinare a te Non glielo perdono Guardando di nuovo l'orologio Sono già le 15 meno 20 Devo filare Valeria, dissimulando l'ansia che la soffoca Sì, ma, voglio una grazia da te Laurina, è rimasta nascosta nella stanza contigua E spia fra le portiere Il dottor Arletti una grazia da me Le grazie sono un patrimonio tuo Comandami piuttosto, ed io ti obbedirò Valeria un semplice capriccio Il dottor Arletti benvenga il capriccio Valeria dammi quella busta Il dottor Arletti la busta che me ha consegnata la baronessa Valeria sì, bravo La busta che ti ha consegnato la baronessa Il dottor Arletti in verità È un capriccio stupido Valeria tutti i capricci sono stupidi Il dottor Arletti non il tuo è Valeria per una volta Lascia che abbia un capriccio stupido anch'io Il dottor Arletti ma io non mi raccapezzo nemmeno approssimativamente Quale interesse può suscitare in te la diagnosi Complicata come dice la baronessa ad un mediconzolo qualunque Valeria no, vedi, non è me interrogare Dammi quella busta, Filippo Dammi quella busta, ti ripeto, è un capriccio, un capriccio puerile Anzi, vuoi saperlo È una superstizione Non hai scorto qualche cosa di sinistro Qualche cosa di fatale Il dottor Arletti dove? Valeria nella fisonomia della baronessa Il dottor Arletti io, no M è parsa semplicemente la fisonomia d'una pittima E poi, tu hai addimostrata tanta simpatia per lei Valeria fingevo Fingevo Credi e a me, Filippo, quella busta ti porterà disgrazia Il dottor Arletti ma sai che, nonostante la gran fretta che ho, mi fai venire una curiosità matta di vedere che diavolo sta scritto qui dentro Cava di tasca la busta Valeria, con un grido No, Filippo, non aprire Il dottor Arletti ha, senti, una superstizione che ti fa diventare clorotica e tremante Non te la permetto, perbacco Non te la permetto E per educarti a vincere queste morbosità balorde, mi voglio gustare da capo a fondo la diagnosi Complicata Siede comodamente in un'ampia poltrona Inforca gli occhiali E quindi lacera la busta Valeria, sentendosi perduta Silenziosamente Cade ginocchioni Accanto a lui Ma un po' più indietro Non vista In un atteggiamento di implorazione Laurina Sporge fra le portiere il nasino irrequieto Il dottor Arletti Stendendo il foglietto trovato nella busta Legge Irritazione delle mucose del naso e della bocca Valeria Si drizza Immediatamente In piedi Il dottor Arletti Cagionata da un forte cimurro Gettando all'aria il foglietto e levandosi in bestialito Ma questa baronessa dei miei stivali Si prende gioco di me È una cretina maleducata e impertinente Che io non farò mai più entrare in casa mia Laurina Irrompe portando l'ombrellino orizzontalmente Col braccio teso in avanti Scusino tanto Ho dimenticato qui il mio ombrellino Il dottor Arletti Su tutte le furie Ma se lo ha in mano il suo ombrellino Laurina Già Non me ne ero accorta Valeria È nuovamente allarmata Il dottor Arletti Impennandosi e facendo la voce grossa Insomma Signora baronessa Laurina dica Il dottor Arletti Col sangue agli occhi Lo sa o non lo sa Lei Chi sono io Laurina Nessuno potrà mai saperlo meglio di me Il dottor Arletti Battendo col pugno sulla spalliera d'una sedia E dunque Signora baronessa Laurina Troncandogli la parola Si ricordi la gamba Dottore E dando uno sguardo al suo orologetto Un altro a Valeria Ci vogliono soltanto 4 minuti per le 15 Guardano rapidamente i loro orologi anche Valeria e il dottore Arletti Il dottor Arletti Maledizione È vero È vero Maledizione Maledizione Piglia il cappello Ed esce come un fulmine Valeria Si slancia verso Laurina Lei ha voluto rinunziare alla vendetta Lei ha voluto risparmiare un colpo atroce a mio marito Un disastro irreparabile a me La sua generosità è stata così grande che Laurina no, no, cara signora Ritiri il suo entusiasmo Perché non mi spetta Niente generosità da parte mia Se io avessi consegnata all'ottimo dottore quella preziosa lettera Lei, sì Avrebbe potuto rimetterci la pelle E anche in tal caso non so quel che ci avrei guadagnato io Una rivale morta può valere più d'una rivale viva Ma supponiamo, invece Che l'ottimo dottore si fosse limitato a farla rotolare per le scale Bel affare per me Lei sarebbe piombata sulle spalle di Riccardo Negri E io sarei rimasta con un palmo di naso Quella lettera lì, cara signora È un cannoncino prodigioso che colpisce con più sicurezza Quando non è sparato Difatti, fin c'è quella lettera sarà in mio possesso Ben conservata e nascosta Lei si guarderà bene dal contendere uno straccetto d'amoroso a questa povera cocottina Alla quale lei medesima ha voluto dare, per un giorno Il titolo di baronessa Forse per avere l'illusione di non essersi troppo abbassata nel farle la concorrenza Valeria, esausta, annichilita, disgraziatamente, ha ragione Sono nelle sue mani Mi piegherò Scena v Il domestico signora Laurina, mostrando immediatamente l'ora del suo orologetto a Valeria Le quindici precise Valeria che c'è, Giuseppe Il domestico il signor Riccardo Negri ha fatto domandare dal portinaio se vostra eccellenza riceve Valeria Non ricevo Laurina, esse obito, perché no Al domestico Riceve Riceve Dite che riceve Il domestico ma come c'entra, lei Queste son cose dell'altro mondo Alla padrona Che mi comanda di dire Eccellenza Laurina, si accosta molto a Valeria e le parla, col sorriso sulle labbra, abbassando la voce e ricalcando le parole Lei avrà la squisita cortesia di far dire che riceve È un piccolo favore che, non deve negarmi Valeria, tentando di ribellarsi, ma io non voglio Laurina, con un piccolo gesto autoritario, troncandole la frase, se me lo nega, guai Si allontana un po', guardandola sempre con occhio comicamente minaccioso Valeria, tremando ho mutato idea, Giuseppe Ricevo Laurina, al domestico Avete visto? Asinone Il domestico, sbuffando, esce Valeria, in uno scoppio d'angoscia Ah, no 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 Non è possibile Il martirio d'una conversazione in tre è superiore alle mie forze Sarebbe troppo Sarebbe troppo E già che lei, naturalmente, si ostinerà a non andarsene, me ne vado io Laurina, davvero Ma io non desideravo che questo Lei mi concede l'onore di sostituirla Che gioia Vorrei darle un altro bacio Valeria, con una contrazione di disgusto, fugge per la porta a destra, chiudendola con violenza Scena sesta Laurina ora tocca a lui Si sdraia, languidamente, sull'ampia poltrona, con le spalle ben voltate verso l'uscio di fondo e con la testolina atteggiata in modo che di là dalla spalliera non si scorge se non il cappello Riccardo, entra ansiosamente con un'aria galante e appassionata Laurina, quando se lo sente avvicinare, torcendo tutto il corpicino, si alza bruscamente per mostrarglisi di botto E Riccardo E Fa un salto indietro come se gli fosse scoppiata una bomba davanti ai piedi Poi, senza por tempo in mezzo, se la dà a gambe Sipario Nota del trascrittore ortografia e punteggiatura originali sono state mantenute, correggendo senza annotazione minimi errori tipografici Asterisco 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 end of the project Gutenberg ebook a di armi corte Commedia in un atto asterisco 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 Updated editions will replace the previous one the old editions will be renamed Creating the works from print editions not protected by USA copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties Special rules, set forth in the general terms of use a part of this license, apply to copying and distributing project Gutenberg Simbolo di marchio registrato Electronic works to protect the project Gutenberg Simbolo di marchio registrato Concept and trademark Project Gutenberg is a registered trademark And may not be used if you charge for an ebook Except by following the terms of the trademark license Including paying royalties for use of the project Gutenberg trademark If you do not charge anything for copies of this ebook Complying with the trademark license is very easy You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away you made of practically anything in the United States with a books not protected by USA copyright law Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution Start Full license The full project Gutenberg license Please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg Simbolo di marchio registrato Or any other work associated in any way with the phrase project Gutenberg You agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg Simbolo di marchio registrato license available with this file or online at www.gutenberg.org Org barra license Section 1 General terms of use and redistributing project Gutenberg Simbolo di marchio registrato electronic works 1.a by reading or using any part of this project Gutenberg Simbolo di marchio registrato electronic work In your work, you indicate that you agreed, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark barra copyright, agreement If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of project Gutenberg Simbolo di marchio registrato electronic works in your possession If you paid a fee for obtaining a copy or for access to a project Gutenberg Simbolo di marchio registrato electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.a. 1.b 1.b Project Gutenberg is a registered trademark It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agreed to be bound by the terms of this agreement There are a few things that you can do with most project Gutenberg Simbolo di marchio registrato electronic works even without complying with the full terms of this agreement See paragraph 1.b There are a lot of things you can do with project Gutenberg Simbolo di marchio registrato electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to project Gutenberg Simbolo di marchio registrato electronic works See paragraph 1.b 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 1B the public domain in the united states if an individual work is unprotected by copyright law in the united states and you are located in the united states we do not claim a right to prevent you from copying distributing performing displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to project gutenberg are removed of course we hope that you will support the project gutenberg simbolo di marchio registrato mission of promoting free access to electronic works by freely sharing project gutenberg simbolo di marchio registrato works in compliance with the terms of disagreement for keeping the project gutenberg simbolo di marchio registrato name associated with the work you can easily comply with the terms of disagreement by keeping this work in the same format with its attached full project gutenberg simbolo di marchio registrato license when you share it without charge with haters 1.d the copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work copyright laws in most countries are in a constant state of change if you are outside the united states check the laws of your country in addition to the terms of disagreement before downloading copying displaying performing distributing or creating derivative works based on this work or any other project gutenberg simbolo di marchio registrato work the foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the united states 1.1 unless you have removed all references to project gutenberg 1.1 the following sentence with active links to oro der immediate access to the full project gutenberg simbolo di marchio registrato license must appear permanently whenever any copy of a project gutenberg simbolo di marchio registrato work anywhere con which the phrase project gutenberg appears or with which the phrase project gutenberg is associated is accessed displayed performed viewed copied or distributed this ebook is for the use of anyone anywhere in the united states and most other parts of the world that in August and with almost no restrictions whatsoever you may copy it give it away or reuse it under the terms of the project gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org if you are not located in the united states you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook 1.2 if an individual project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work is derived from texts not protected by us copyright law does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder the work can be copied and distributed to anyone in the united states without paying any fees or charges if you are redistributing or providing access to a work with the phrase project gutenberg associated with or appearing on the work you must comply it are with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the project gutenberg simbolo di marchio registrato trademark as set forth in paragraphs su 1.e.8 or 1.e.9 or 1.e.9 1.e.3 i fan individual project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work is posted with the permission of the copyright holder your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 the end of the end of the year the project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work is put on the work is posted with the permit of the copyright holder found at the beginning of this work 1.4 Do not unlink or detach or remove the full project Gutenberg simbolo di marchio registrato license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg simbolo di marchio registrato. 1.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg simbolo di marchio registrato license. 1.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a project Gutenberg simbolo di marchio registrato work in a format other than plain vanilla hash or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg simbolo di marchio registrato website, www.gutenberg.org. 3.1 Any alternate format must include the full project Gutenberg simbolo di marchio registrato License as specified in paragraph 1.1.1.1.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg simbolo di marchio registrato Works unless you comply with paragraph 1.1.8 or 1.1.9. 1.1.8 You may charge a reasonable fee for copies or for providing access to or distributing project Gutenberg simbolo di marchio registrato Electronic Works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg simbolo di marchio registrato Works calculated using the method you already used to calculate your application. The fees of the owner of the project Gutenberg simbolo di marchio registrato Trademark, but you agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty Payments must be paid within 60 days following which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty Payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty Payments 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 all access to other copies of project gutenberg simbolo di marchio registrato works you provide in accordance with paragraph 1.f punto 3 a full refund of any money paid for a work or a replacement copy if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work you comply with all other terms of disagreement for free distribution of project gutenberg simbolo di marchio registrato works 1.e.9 if you wish to charge a fior distributa project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work or group of works on different terms than our set force in disagreement you must obtain permission in writing from the project gutenberg literary archive foundation the manager of the project gutenberg simbolo di marchio registrato trademark contact the foundation asset for since action 3b lo 1.f 1.f punto 1 project gutenberg volunteers and employees expand considerable effort to identify the copyright research on transcribe and prove free works not protected by us copyright law in creating the project gutenberg simbolo di marchio registrato collection despite these efforts project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works and the medium on which they may be stored may contain the effects such as but not limited to incomplete in a chiaritor corrupt data transcription errors a copyright order intellectual property infringement al defective or damage disc broader medium a computer virus or computer codes that damage or cannot be read by your equipment 1.f punto 2 limited branty disclaimer of damages except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f punto 3 the project gutenberg literary archive foundation the owner of the project gutenberg simbolo di marchio registrato trademark and any other party distributing a project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic work under this agreement disclaim all liability to you for damages costs and expenses including legal fees you agreed that you have no remedies for negligence strict liability breach of warranty or breach of contract except except those provided in paragraph 1.f punto 3 you agreed that the foundation the trademark owner and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual direct indirect consequential punitive or incidental damage e si veni fiugive notice of the possibility of suc damage 1.f punto 3 limit right of replacement or refund if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it you can receive a refund of the money if any you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from if you received the work on a physical medium you must return the maximum you must return the medium with your written explanation the person oriented that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in l'uofa refund if you received the work electronically the person oriented that provided you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in l'uofa refund if the second copy is also defective you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem 1.f punto 4 except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f punto 3 this work is provided to you a cs with no other branches of any kind express or implied including beauty not limited to branches of merchant ability or fitness for any purpose 1.f punto 5 some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages if any disclaimer or limitation set forth in disagreement violates the law of the state applicable to this agreement the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law the invalidity or unenforciability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions 1.f punto 6 indemnity you agree to indemnify and hold the foundation the trademark owner any agent or employee of the foundation anyone providing copies of project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works in accordance with this agreement and any volunteers associated with the production promotion and distribution of the of project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works armless from all liability cost and expenses including legal fees that arise directly or indirectly from many of the following which you do or cause to a care a distribution of this or any project gutenberg simbolo di marchio registrato work b alteration ma da fuck a sean ora di chance or deletions to any project gutenberg simbolo di marchio registrato work and c any defect you cause section 2 information about the mission of project gutenberg simbolo di marchio registrato project gutenberg simbolo di marchio registrato is synonymous with the free distribution of the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete old, mid-legged and new computers it exists because of the efforts of volunteers of volunteers and donations from people in all walks of life volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching project gutenberg simbolo di marchio registrato s goals and ensuring that the project gutenberg simbolo di marchio registrato collection collection will remain freely available for generations to come in 2001 the project gutenberg literary archive foundation was created to provide a secure and permanent future for project gutenberg simbolo di marchio registrato and future generations to learn more about the project gutenberg literary archive foundation and how your efforts and donations can help see sections 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org section 3 information about the project gutenberg literary archive foundation the project gutenberg literary archive foundation is a non profit non profit 501 c 3 education corporation organized under the loss of the state of mississippi and granted tax exempt status by the internal revenue service the foundation s and or federal tax identification number is 64 trattino 6 2 2 1 5 4 1 contrabbure chance to the project gutenberg literary archive foundation art tax deductible to the full extent permitted by us federal laws and your status laws the foundation s business offices located at 809 north 1500 west salt lake city 8 84 116 801 5 9 6 1 8 8 8 7 email contact link send up to date contact information can be found at the foundation s website and official page at www.gutenberg.org barra contact section 4 information about the foundation to the project gutenberg literary archive foundation project gutenberg simbolo di marchio registrato di pensaparen and canate survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in macchine reale www.cces 19800 be forme accessible by the wide astral rio fi fi qui deportment including out-of-date e equipment many small donations un tuo dollari cinque dollari ar partichia larry important the foundation is committee to comply with dello switching from the service that he said za vale nei chance in all 50 states of the united states compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort match paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements we do not solicit donations in locations where we have not received return confirmation of compliance to send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org barra donate while we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such state suo approccio stati uniti with of ours to donate international donations are greatly accepted but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the united states us lo salone swan power small staff please check the project gutenberg web pages for current donation match and send addresses donations are accepted in a number for the ways including checks online payment send credit card donations to donate please visit www.gutenberg.org barra donate section 5 general information about project gutenberg simbolo di marchio registrato electronic works professor michael s art was the originator of the project gutenberg simbolo di marchio registrato concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone for 40 years i produced and distributed project gutenberg simbolo di marchio registrato e book sui soli aluos network of volunteer support project gutenberg simbolo di marchio registrato e book sarofan created from several printed editions all of which are confirmed as not protected by copyright in the us unless a copyright notices included tas we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition most people start at our website which is the main pg search facility www.gutenberg.org this website includes information about project gutenberg simbolo di marchio registrato including auto make donations to the project gutenberg literary archive foundation auto help produce our new ebooks and auto subscribe to our e-mail newsletter to hear about new ebooks and auto subscribe to our e-mail newsletter to hear about new e-books and auto subscribe to our e-mail newsletter to hear about new e-books and auto subscribe to our e-mail newsletter to hear about new e-books and auto subscribe to our e-mail newsletter to hear about new e-books Grazie a tutti.